Seconda settimana di preparazione precampionato per il di Santo Dionisio Bomba, ancora una volta ai nastri di partenza del campionato di prima categoria, eravamo stati qua anche in passato, l'anno scorso abbiamo seguito le vicende di questa squadra ma per poche settimane come d'altronde le vicende del resto delle compagini abruzzesi e anche nazionali, ci si è fermati causa lockdown, adesso si prepara la ripartenza, ci sono stati degli importanti arrivi, ne parliamo con il presidente Andrea Di Carlo, alcuni sono assenti oggi ma è normale visto che si tratta di calcio direttantistico e qualcuno lavora anche. Sì, ciao Antonio buonasera e benvenuto, ti ringrazio della visita, la squadra è stata in parte modificata come ti anticipavo precedentemente, qualche ragazzo dopo il covid non ha voluto più ricominciare, qualcun altro che aveva meno spazio ha deciso di andare via o di tornare al proprio paese che sono scelte più che legittime e comprendiamo, noi non abbiamo mai opposto l'esistenza a nessuno e qualche altro ragazzo è arrivato. Oggi ci sono delle assenze come dicevi tu perché per motivi di lavoro ci sono dei ragazzi che stanno facendo il pomeriggio, qualcuno sta arrivando perché magari lavora sul giornaliero e arriva più tardi, però la squadra si sta andando componendo, la base è già pronta, forse serve qualche altro elemento, un paio di elementi per essere al completo, siamo un po' numericamente corti. E vogliamo parlare di questi nuovi arrivi? Sì sì, diciamo che i senior sono assenti entrambi oggi ma si sono allenati regolarmente finora, sono Antonio Del Peschio, attaccante che penso non abbia bisogno di presentazioni, è venuto dopo la corte serrata del mister di varie stagioni, l'anno scorso tra l'altro in Coppa ci ha anche segnato due gol contro nel ritorno lì a Piazzano, e Valerio Caruso che ritrova qui il fratello oltre anche ad altri compagni con cui ha condiviso l'esperienza da tessa alcune stagioni fa e che sicuramente già si stanno integrando o comunque faranno meno difficoltà. E poi ci sono tre ragazzi, Davide Grossi un ragazzo del posto, c'è Alessandro Taddeo un terzino classe 2001 di Pennadomo e c'è Lorenzo Carpineta un centrocampista 2003 di Piedera Ferrazzano. Quest'anno il Covid ha zerato alcune realtà, citavi tu stesso il Piazzano e tra l'altro questo in parte ha favorito l'approdo in rosso-bru di Antonio Del Peschio, svincolato proprio dal Piazzano. Quali sono le favorite quest'anno della stagione in prima? Diciamo che da quello che si legge gli articoli sulle testate giornalistiche locali, credo che San Vito abbia fatto un'ottima squadra, un ottimo organico, anche Altino penso che sia un'ottima squadra. E poi sinceramente non so nulla delle due squadre di Rocca Spinalveti, poi dipenderà anche dal girone che avremo perché non ancora conosciamo la composizione dei gironi, quante squadre ci sono in ogni girone. Se avremo anche le squadre della zona dei Guardi Agrele, Farafilio Rumpetri, Rapino, questo al momento l'anno scorso non c'erano ma adesso non sappiamo. E Piazzano, come dicevi tu, ha già dichiaratamente espresso di non riscriversi e questo sinceramente ci dispiace. Poi abbiamo altre realtà vicine, tipo il Perano che mi sembra una buona realtà. Sì, sì, il Perano sicuramente, una realtà che ha delle basi solide. Conosco bene Leonardo D'Aronzo alla mia età, ha una grande passione anche lui, è una gestione molto corretta e ordinata della società sportiva. Faccio il migliore in bocca al lupo e credo che si possa dire tranquillamente la sua, ma poi fondamentalmente spesso ci sono delle favorite che poi magari non rispettano il trend oppure ciò che viene previsto all'inizio. Anche Palena penso che sia un'ottima realtà che fa questi campionati da anni e quindi diciamo che il campionato possa essere molto bello e noi ce lo disputiamo cercando di giocarcela con tutte alla pari, ci proveremo. Come avete vissuto questi mesi di chiusura totale, diciamo così? Sicuramente non è stato facile, qualche ragazzo ha continuato a fare qualche altro sport sicuramente, adesso c'è il padel che è andato in grande voca in questi mesi qui. Sì, è stato difficile non tanto per noi perché la nostra passione è forte e quindi ci siamo rimessi subito in moto a maggio, anzi abbiamo fatto un grosso lavoro all'interno degli spogliatoi per la sistemazione, anche il campo, l'amministrazione comunale ci è venuta incontro per la sistemazione della pulizia, adesso stiamo rimettendo le reti alle porte, vogliamo farci trovare pronti per la ripartenza. Però qualche ragazzo ha subito molto questo fermo e non riusciamo ancora a convincerlo, purtroppo non vuole ripartire e questa è causa anche della rosa meno ampia rispetto alle passate stagioni. E siamo nuovamente come l'anno scorso a parlare con il riconfermatissimo mister Edoardo Del Peschio che quest'anno si ritrova in squadra alcuni elementi che lui personalmente ha corteggiato calcisticamente, ci riferiamo al cugino Antonio ma anche a Caruso, una squadra che necessita ancora di qualche ritocco come ci diceva il presidente ma comunque ben allestita. Sì sì, dici bene Antonio, quest'anno abbiamo puntellato un po' l'attacco, la società con il presidente mi hanno accontentato, abbiamo preso Antonio Del Peschio, mio cugino, che già è 3-4 anni che cercavo di portarlo qui con me, quest'anno ci sono riuscito, speriamo, detto anche alla squadra, logicamente prendendo un giocatore del genere dobbiamo mettere in condizione di esprimersi al massimo, quindi dobbiamo giocare per lui, allenarci e dopo lui finalizzerà quello che noi abbiamo fatto. Poi abbiamo preso Caruso che è il fratello di Francesco Rosario, il terzino, pure lui un ottimo elemento, quindi penso che a centrocampo ci darà una grossa mano, più che altro ci darà anche molta freschezza essendo lui giovane, il 94, anche perché a centrocampo abbiamo Rotunno e Cridis che Rotunno qualche anno ce l'ha sulle spalle e quindi gli darà una grossa mano a centrocampo. Poi il resto della squadra abbiamo riconfermato, penso che ti aveva detto anche il presidente, quella dell'anno scorso e abbiamo tolto qualcuno che era un po' attempato con qualche anno in più, allora abbiamo fatto più che altro una rosa molto giovane, abbiamo ringiovanito molto, abbiamo preso due o tre fuori quota in più perché l'anno scorso eravamo un po' deficitari dietro come fuori quota e adesso la squadra è da completare per arrivare a 20-22 giocatori, però diciamo che sono soddisfatto di quello che ho a disposizione. Il mister manterrà sempre il doppio ruolo? Il presidente mi chiede sempre questo sacrificio, credo che quest'anno vediamo un po' come sto perché adesso ho ricominciato a allenarmi, dopo un anno e mezzo fermo a quest'età non è semplice, gli acciacchi si sentono, cerco di mantenermi allenato, di non andare troppo sotto sforzo però ho sempre Enzo, il fioriti che è il portiere giovane che mi darà una mano quando non starò bene, quindi vediamo un po'. Se riesco a finire questo campionato vediamo un po', però è da vedere durante la stagione che cosa succederà. Parliamo un attimo prima di lasciarti all'allenamento del campionato, delle avversarie, non abbiamo ben specificato il vostro ruolo, che cosa ti ha chiesto la società e quali sono invece le favorite secondo te? Per quanto riguarda la nostra squadra penso che la società mi ha messo a disposizione questa rosa, però non mi ha chiesto assolutamente la posizione della classifica da fare, quindi è questo che ho detto anche ai ragazzi che vengono a giocare con noi, che non abbiamo nessun assillo di classifica. Quello che viene ci prendiamo, logicamente cerchiamo di lottare e di vincere tutte le partite che abbiamo a disposizione, però non ti so dire, quello che viene vedremo, come cominceremo a giocare e vediamo se bisogna lottare per non retrocedere, per una meta classifica, per la zona playoff oppure per il primato. Non sappiamo, veramente non sappiamo neanche le squadre come sono le altre squadre, come sono allestite quest'anno, so soltanto che con i nomi il San Vito sta facendo grossi acquisti, però le altre squadre penso che sono al pari nostro oppure anche inferiori, quindi non so, San Vito penso che sta facendo degli acquisti di giocatori di categoria superiore, quindi penso che vuole vincere il campionato, però poi tra il dire e il fare non è detto che sempre riesce, quindi vediamo un po'. Altre squadre non so, non so che dirti.